partete in vantaggio si porta gradatamente dall'esterno starting grid che passa ora a condurre all'imbocco della curva e in vantaggio abbastanza nettamente davanti a Lady Onoria che si trascina all'esterno Miss Monopoli con all'interno Gran Tropical Strom più indietro Mugia Libera e più staccata Dina Belfiore Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo con starting grid in vantaggio circa tre lunghezze nei confronti di Lady Onoria che ha all'interno Gran Tropical Strom che ora si profila all'inseguimento del leader quindi Miss Monopoli siamo a 350 dal palo starting grid sotto la minaccia esterna di Tropical Strom i due si sono staccati dagli avversari capeggiati da Lady Onoria nel tratto finale starting grid all'interno è attaccata a fondo da Gran Tropical Strom lotta tra i due all'interno starting grid mantiene la meglio e si impone su Gran Tropical Strom e Lady Onoria qui in quarta Mugia Libera rivediamo le immagini che la regia prontamente ci ripropone con il numero sei di starting grid Dario Varginz e la scuderia Chimax in primo piano in questa debuttanti per femmine prima corsa di Agnano al posto d'onore Gran Tropical Strom numero due dello schieramento e al terzo il numero tre Lady Onoria quindi sei due tre il probabile ufficioso arrivo della prima di Napoli